Ciao a tutti, oggi parliamo di un argomento che è caldo, è caldo in questi giorni, che sono le elezioni politiche e ovviamente cercherò in questo video di parlare di elezioni politiche animali domestici ma soprattutto perché voglio analizzare questo fenomeno in cui vengono utilizzati molto spesso gli animali domestici come propaganda poi fondamentalmente non si va chiaramente a far qualcosa di solito di serio riguardo agli animali domestici e cercherò in questo video fondamentalmente di analizzare questa tematica del perché in primis utilizzano gli animali domestici come propaganda e del perché fondamentalmente la politica è così lontana fondamentalmente da queste tematiche in primis è chiaro che esistono nella politica sia partiti che si occupano in primis nel loro statuto e nel loro programma di animali domestici e che di solito sono partiti che ottengono comunque dei numeri bassi perché di solito i partiti che si occupano di un solo tema chiaramente non riescono nelle elezioni politiche ad avere dei grossi numeri ma anche i partiti classici diciamo quelli che di solito ottengono la maggior parte dei voti che comunque di solito o nei loro programmi o comunque in alcuni comizi qualcosa sul cane e il gatto sugli animali domestici le mettono anche Silvio Berlusconi ogni tanto lo dicono sugli animali domestici per capirci e questo avviene anche alle elezioni comunali alle elezioni regionali insomma avviene un po' ovunque quando ci sono le elezioni molto spesso però vengono utilizzati come propaganda perché la maggior parte delle persone che votano hanno comunque un animale domestico e cercare di comunque prendere il loro voto che poi è lo scopo delle elezioni politiche è fondamentalmente fondamentale per loro e quindi cercano di parlare di tutti gli argomenti e anche gli animali domestici è molto spesso solo propaganda e anche alcune azioni politiche cioè quindi usciamo proprio fuori dal discorso campagna elettoriale ma anche proprio le azioni stesse che molto spesso fa la politica sugli animali domestici molto spesso è solo propaganda cioè nel senso che quando tu crei una legge, una norma, qualsiasi cosa, anche un fondo di aiuti magari per curare, per sterilizzare tu fondamentalmente dovresti prendere quella cosa e vedere quanto è sostenibile sia nel breve periodo ma anche nel lungo periodo per capire se è solo uno specchietto per la lodole faccio un esempio per cercare chiaramente di arrivare al dunque a volte io leggo ma vi sarà capitato anche voi di leggere magari che dice comune X, comune di capoluogo di provincia X finalmente hanno la loro ambulanza veterinaria titolone sul giornale tutti che condividono finalmente un'ambulanza magari che deve gestire mezza regione e lì uno si fa due domande dice in primis vabbè costa non lo dicono mai ti dicono quando io chiamo pago no e già lì ok due non ti dicono ce n'è una una e chiaramente uno dice ma quel giorno lì se lo chiamano in 5-6 ovviamente non potranno nel lungo periodo è fallimentare chiaramente nel breve magari si impegnano sono lì a fare tutti a cercare di dare il meglio di sé che per carità è non voglio criticare chi poi fa questa cosa però fondamentalmente è chiaro che è propaganda cioè se tu vuoi risolvere veramente un problema lo devi risolvere anche realisticamente è tutto molto bello anche a me piacerebbe andare in Africa e salvare però poi ci sono le cose che devono essere realistiche altrimenti diventa propaganda è la differenza e questo non per criticare chi poi fa il volontariato perché quello è un altro discorso io parlo proprio della politica di chi utilizza queste cose per poi farsi tra virgolette bello di fronte alla popolazione faccio un altro esempio di propaganda sugli animali domestici che magari viene fatto Comune decide che ha i sacchetti ha i sacchetti per raccogliere le feci bellissimo così nessuno lo butta via interra, recoglie è tutto molto bello poi Comune non controlla e non sanziona chi invece lascia il cane girare libero come se il cane intelligentemente poi se le raccoglie capite che tu non puoi fare una roba e dall'altra parte dire ok ho messo giù questo adesso vi sanziono e vado a controllare trovo i cani in giro ok devi lavorare su due piani invece molto spesso mettiamo questo è carino tutto bello tutti contenti però è propaganda fondamentalmente un'altra cosa che è propaganda per esempio è quando fanno dei fondi per la gestione per esempio della salute che dicono se hai un ISEE sotto una determinata soglia io Comune sono disposto a finanziare questi soldi poi tu prendici il numero di cittadini il numero di soldi finanziati il costo medio di una visita e vedi che fondamentalmente il Comune riesce a finanziare pochissime visite pochissime prestazioni veterinarie e dici ma scusa ma che servizio è? cioè se tu riesci a se tu crei una cosa che alla fine aiuti l'1% della popolazione non della popolazione l'1% della popolazione avventi diritto di quel diritto che tu pubblicizzi e che realizzi è chiaro che è fallimentare sì per carità aiuti meglio di niente non lo metto in dubbio però è propaganda perché in quel caso lì tu dovresti capire che non funzionerà non funzionerà mai a volte succede anche per esempio quando fanno i piani di sterilizzazione che vai a vedere il Comune quanti soldi ha messo per realizzare le sterilizzazioni per la gestione del randagismo fai due calcoli e dici ma scusa ma alla fine sterilizzi quattro gatte con i soldi che hai messo quattro gatti in un comune in un anno immaginate come lo risolviamo il randagismo e questo è molto spesso propaganda gli animali domestici vengono purtroppo utilizzati molto spesso come propaganda perché? perché a parte vabbè a volte l'incapacità della politica di unire professionisti di quella materia alla politica e lavorare su tavoli in modo tale da dire ok devo realizzare questo magari coinvolgo no chi se ne occupa di quella persona invece molto spesso è un discorso un po' più la politica non è la politica è fatta di varie strutture ci sono i partiti ma ci sono tutto ciò che ruota intorno tu come privato o come professionista se non entri dentro in quel giro non è che vieni coinvolto dalla politica perché la politica vuole che tu entri in quel giro lì e persone magari che invece vogliono fare il loro lavoro vogliono essere non vogliono entrare in quel giro loro vogliono essere lì e dare l'aiuto di quello che vedono in quella zona lì magari e la politica di solito non riesce a fare questo tipo di unione e quindi si basa magari su un'associazione su una cosa però non c'è un coinvolgimento delle varie parti e questo chiaramente crea una visione che molto spesso è una visione univoca di un'associazione o comunque di qualcuno che ha magari dei contatti molto più intensi con la politica e quindi si porta avanti questa visione e ho fatto l'esempio stupid di prima quando tu metti dei cestini per la raccolta delle feci dei cani e tu non realizzi nello stesso momento una legge che sanziona se tu non se il cane gira da solo e tutte queste cose e non crei poi un sistema di controllo soprattutto nei primi mesi perché molto spesso se le leggi vengono applicate immediatamente probabilmente c'è anche l'effetto boost nel lungo periodo chiaramente significa che lì c'è una mancanza di correlazione cioè tu hai fatto una cosa utile ma che poi non sarà utile e quindi hai sprecato delle risorse è un po' la stessa cosa non so del randagismo il randagismo è molto complesso non è l'argomento di questo video e magari ne faremo anche un video apposito sul randagismo però il randagismo se voi vedete come viene gestito è un po' una gestione che non è un po' come cercare di prendere l'acqua del mare e metterla tutta nel nel secchiello il randagismo è così cioè se tu anche fai tutte queste campagne adottate adottate ma dall'altra parte non vai a capire che il problema sono le natalità non controllate tu fondamentalmente crei non vai a risolvere il problema e invece va risolto il problema sia per lo Stato perché lo Stato è incapace completamente e basta leggere i giornali come i canili non riescono ad essere gestiti correttamente perché chiaramente lo Stato non vuole pagare e quindi cominciano ad avere grossi problemi quindi se tu vuoi risolvere un problema tu devi capire qual è il problema il problema è la natalità incontrollata se tu la natalità incontrollata non la gestisci in una certa maniera tu fondamentalmente non ne esci e questa la politica di solito non lo fa non lo fa perché molto spesso sono scelte che possono portare dei contrasti interi nella popolazione perché non è che la popolazione vede il problema sempre con gli occhi dal di fuori cioè o dal dentro perché molto spesso se uno non fa questo di lavoro non sa lo vede la notizia la sua idea anche eticamente magari uno ha un'idea diversa ma ci sta non è che il contrasto l'idea etica però poi uno Stato deve capire come gestire una problematica se c'è una problematica perché se non c'è se faccio un esempio nel mio paese il randagismo nel cane praticamente non c'è ci sono ancora delle situazioni magari in campagna che potrebbero essere gestite meglio però fondamentalmente il concetto di randagismo nel cane non c'è perché le persone sono state brave a creare questo equilibrio però è un equilibrio creato dalle persone non dalla legge in altre persone d'Italia questo equilibrio non si è creato e quindi se lo Stato non interviene con una legge lì dopo anni non si crea un equilibrio vuol dire che c'è un fallimento dell'equilibrio e ci sta perché non è che il cittadino deve e il veterinario di solito e le associazioni di solito creano questo equilibrio si autocrea a volte cioè deve essere la bravura da parte di tutte le parti se questo non avviene lo Stato deve intervenire e deve intervenire in una certa maniera per evitare prima che il problema diventi poi un problema di salute pubblica e due che già avviene in alcune zone con degli attacchi di cane alle persone in alcune zone abbiamo visto non ricordo adesso quanti anni fa quella signora che poi scavolcò il carrell poi la trovarono i resti di lei del bambino se non mi sbaglio e c'era il dubbio che un branco di cani randaggi vivesse poi attaccati in alcune zone già c'è un problema di salute pubblica ma indipendentemente è anche un discorso di gestione economica dello Stato di spesa pubblica quindi molto spesso devi prendere delle decisioni e questa la politica non lo fa certo magari qualche partito come ho detto piccolo molto spesso fa queste cose però poi fondamentalmente non si è ancora realizzato anche a livello comunale in nessun comune d'Italia questa cosa quindi immagino che non sia così semplice poi da realizzare il discorso fondamentalmente del controllo delle natalità se si vede che in una zona il controllo delle natalità sfugge di mano il comune dovrebbe mettere un obbligo di sterilizzazione di tutti gli animali di quel comune è l'unica soluzione però nessuno lo propone perché? perché fondamentalmente sarebbe comunque qualcosa che creerebbe comunque non è che se tu fai una legge che obblighi la sterilizzazione di tutti i cani tutti i gatti di proprietà le persone sono lì che dicono ok dobbiamo farlo ovviamente in quelle zone lì tutti direbbero ma altri soldi hai capito? ma in quel caso lì tu comune puoi dire ok io obbligo però sovvenziono in quel caso lì ha un suo senso sovvenziono e obbligo e invece molto spesso sovvenziono ma non obbligo quindi alla fine è come prendere il mare e metterlo nel secchiello questo ovviamente ripeto farò un video su come la penso io perché poi ognuno di noi chiaramente le sue idee però io fondamentalmente ho una mia idea che se non esiste un equilibrio nell'ambiente questo l'equilibrio va comunque creato in una certa maniera questo che sia la criminalità organizzata la micro criminalità cioè è chiaro che in tutti quegli ambienti in cui non c'è un equilibrio lo Stato deve intervenire altrimenti siamo nel nel far west fondamentalmente e io non voglio vivere nel far west un saluto a tutti e alla prossima e io non voglio vivere